salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con il paro tanafi oggi ci troviamo a clusane di seo facciamo questo piccolo volo sul lago per vedere come si comporta questo paro tanafi in queste situazioni con il mabich ne ho già fatti mille in queste situazioni e si è comportato sempre benissimo adesso vediamo come si comporta il paro tanafi, quindi ragazzi prepariamo tutto e vogliamo col paro tanafi come si comporta questo piccolo Cos'l'imcomplete Yeah, l'imcomplete Cos'l'imcomplete I need you here tonight To cover up the sound of the sheets Cos'l'imcomplete 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 At the crack of dawn I imagine you waiting by my doorstep But it won't be long Before I realize there's a picture in my head In my head And I know they're just fragments Of a world where your absence All I get to see Take me back to the planet The planet where you and I are still meant to be Cause I'm incomplete When you wait by my side When you don't wake up next to me Yeah, I'm incomplete I need you here tonight To cover up these empty sheets Cause I'm incomplete Cause I'm incomplete I need you here tonight To cover up these empty sheets Cause I'm incomplete Okay guys Anche il volo col paro taraphi è finito Non si è comportato malissimo Però a 250-300 metri Ho iniziato già a dire che Il segnale iniziava a diventare Scarso di rientrare Quindi il segnale da quel punto di vista Non mi è piaciuto tantissimo Per il resto non si è comportato male C'era un leggero filo di vento Ma non tanto E non si è comportato malissimo Quindi ragazzi Se questo volo con il paro taraphi Sul lago di Iseo vi è piaciuto Lasciate un grosso pollice su Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E ci vediamo nei prossimi video Ciao Ciao